Il cavallo per me è un po' la mia vita, è un compagno d'avventure, un animale a cui voglio molto bene e con cui passo gran parte della mia giornata. Quando c'è il nuovo cavallo che entra nella mia scuderia si inizia un percorso in cui bisogna inizialmente curare molto il suo lato emotivo. Il consiglio per i giovani è quello di iniziare soprattutto a rispettare bene il proprio cavallo, a cercare di sentire, di capire. Non va trattato come un mezzo per ottenere dei risultati ma continuamente essere alla ricerca di una buona comunicazione.